Mi vuoi sposare? Tu mi sei arrivato, lo sai? Certo, se volevo mi bastava un cenno. Io non sono morta! Poi lo sarebbe stato libero tra di me. Elena! Io non posso aiutarla se lei non inizia a risolvere i suoi problemi alla base. Questo è quello che credo non riuscirò a spiegarmi mai. Siamo liberi, siamo vivi. Siamo! Siamo liberi con me, fino a un punto più alto che c'è. Da lì la grandezza che il te parlerà.